Quello che ci interessa chiarire è che non è una strada che viene percorsa per giustificare o comunque affermare un orientamento sessuale. Questo non interessa, interessa pensare al bene di questi bambini, sia sotto l'aspetto pratico che in via legislativa. Hanno preso carte penne ed hanno scritto ai presidenti di Camere e Senato, ai ministri della giustizia e dell'interno e al comitato pari opportunità. Le due mame di Anghiari, unite civilmente, dopo il no del Tribunale di Arezzo, chiedono adesso che venga riempita quella lacuna normativa nella quale sono rimaste invischiate. Nella realtà ci sono molti casi concreti che pur essendo formalmente privi di tutela, nella sostanza sono, chiamiamole impropriamente famiglie, ma si tratta di famiglie, perlomeno dal punto di vista delle intenzioni, nel vero senso della parola, che rimangono prive di normativa. Di fatto, le due donne non hanno potuto riconoscere entrambe i propri figli, gemellini nati lo scorso giugno in seguito ad una PMA alla quale entrambe le mamme si sono sottoposte. Solo una è stata riconosciuta come madre, quella che li ha partoriti. Quindi noi nella sostanza, in assenza di una normativa, finiamo per subire le conseguenze di ciò che è permesso in altri paesi. Quindi quello che si chiede nella sostanza non è un provvedimento favorevole né una normativa favorevole, si chiede semplicemente una normativa. A seguito del rigetto ottenuto in sede giudiziaria, la madre biologico, meglio genetica dei piccoli gemelli, che si era sottoposta all'inseminazione artificiale Spagna con successivo trasferimento e impianto degli ovociti sulla compagna, potrebbe valutare se intraprendere il percorso di adozione in casi particolari dei propri figli. Dal punto di vista morale è una strada un po' difficile da accettare sia in via di principio che nella concretezza, perché sarà un percorso che non è di certo corto.